Paperotta e gli occhialoni Paperotta si stava provando gli occhiali nuovi davanti allo specchio. Erano talmente grandi per il suo faccino che toccavano le guanciotte. Non sembrava più lei. Mogia Mogia scese le scale. Si va a spasso, disse Papa Oca. Nonno starà già aspettando nella sua barca sul lago. Come sei carina con quegli occhialoni, esclamò mamma Oca. Cos'hai, non ti piacciono? No, disse Paperotta. Allora il signor Oca tentò di consolarla. Devi vederci molto meglio adesso. Non ti piacciono nemmeno un pochino? No, ripeté Paperotta. La famiglia Oca uscì di casa. Mamma e papà presero il sentiero saltellando su una zampa. Provaci anche tu, tesoro. Ma Paperotta non saltava, per paura che le cadessero gli occhiali. Mamma e papà Oca si misero a correre. Provaci anche tu, cara. Ma Paperotta non correva, per paura che le cadessero gli occhiali. Quando furono nel parco, Paperotta si mise a sedere sull'erba dietro a un albero, canticchiando una canzone. Poverina, poverella, Paperotta non è bella. Con quel paio di occhialoni giocano tutti tranne lei. Ma ecco arrivare anche il nonno. Dov'è Paperotta? domandò. Si è nascosta, sospirò papà Oca. Non le piacciono i suoi occhiali nuovi, spiegò mamma Oca preoccupata. Il nonno allora si sedette sull'erba dietro l'albero. Niente male il tuo nascondiglio, sussurrò. Grazie, rispose Paperotta. Allora il nonno si voltò e cominciò a osservare dall'altra parte dell'albero. Vedo un paio di occhiali nuovi, sussurrò. Sono blu? No, disse Paperotta. Verdi? domandò il nonno ancora in un sussurro. No, disse Paperotta. Marrone scuro? risbigliò il nonno. A un tratto Paperotta sbucò da dietro l'albero. Allora incrociando le braccia il nonno disse Che belli! Trovi? domandò Paperotta. Certo, sono rossi come i miei, rispose il nonno. E subito le dette un bacino sulla guancia. Chissà se sei sempre brava ad andare di corsa fino al lago e a fare tanti schizzi e spruzzi. Allora Paperotta corse a fare schizzi e spruzzi, spruzzi e schizzi. Poi ne fece ancora e ancora e gli occhiali non caddero nemmeno una volta. Chissà se riesci ancora a fare tre giravolte senza cadere? Paperotta allora ne fece una, due e tre. Non solo non cadde, ma neanche caddero i suoi occhiali. Vieni cara, ho una sorpresa per te, le disse allora il nonno. E insieme andarono al molo. La barca del nonno fluttuava sull'acqua del lago vicino a un'altra più piccola. Guarda lì cosa c'è scritto, disse il nonno. Allora Paperotta lesse. Pa-pe-ro-ta. Era scritto a chiare lettere ed era la sua barca. Il nonno, papà e mamma Oka presero la barca più grande, mentre Paperotta prese la sua e si mise a cantare. Nonno ed io abbiamo uguali dei grandi e bellissimi occhiali. Con la mia nuova barchetta la giornata ora è perfetta. Fine Fine